Questo è l'appuntamento con l'oroscopo che parte subito con la riete. Questo fine settimana non vi trova in gran forma, siete distratti, non riuscite a ingranare e comprensibilmente la routine oggi vi peserà come non mai. Toro, gli appoggi e la disponibilità che troverete nell'ambiente professionale potranno agevolare la riuscita dei vostri progetti o fungere comunque da stimolo. Un'atmosfera affettuosa promette gioia dalla vita di coppia. Gemelli, non lasciatevi scoraggiare da un ritardo nel decollo di un progetto o da ostacoli tutt'altro che insormontabili. Non fatevi intimorire. Cancro, con la testa un po' fra le nuvole forse renderete un po' meno del dovuto ma tranquilli, nessuno o quasi se ne accorgerà. Giornata emozionante per l'amore. Leone, attenzione agli errori di valutazione in ambito lavorativo, valorizzate al meglio le vostre risorse, seguite più da vicino l'andamento delle finanze. Una forte attrazione potrebbe invece sbocciare in una relazione clandestina. Vergine, lo sfasamento a cui siete soggetti provoca errori di distrazione del tutto insoliti per voi, ma la vostra lunga esperienza saprà porvi rimedio. Le incomprensioni nella coppia sono superabili. Bilancia, nel lavoro una nuova proposta non prende il via? Verificate di aver fatto quanto era in vostro potere o se invece non avete peccato di pigrizia. Curate adeguatamente le pubbliche relazioni e non trascurate dei dettagli importanti. Scorpione, il buon umore alle stelle e non a caso tutto procede senza intoppi. Incontri da sogno, notizie e slanci rivitalizzanti per il menage di coppia. Sagittario, scaricare l'irritazione sugli altri non risolverà i problemi. Sarà più produttivo accettare gli imprevisti e rimboccarsi le maniche. Capricorno, buoni risultati se siete impegnati in master di specializzazione. Ottime notizie per quanto riguarda le possibilità di applicazione sul lato pratico. Una bella corrente di complicità si stabilisce con il partner. Acquario, l'avviso di pericolo lanciato dalle finanze merita senza dubbio attenzione. Avete largheggiato un po' troppo e ora si impone qualche piccolo sacrificio. Pesci, confusione in amore e iniziative bloccate per causa di forza maggiore. Disagio con l'ambiente e con voi stessi. Nel lavoro sono da evitare come il fumo negli occhi le situazioni ingarbugliate dove non siano stati stabiliti nero su bianco i termini precisi di un accordo. Grazie.